Penso che noi abbiamo tante necessità, fra cui quella di ripensarci, di organizzarci. La priorità non è Di Maio la festa in unità, però se Di Maio inaugura, finisce la stagione dei monologhi di 5 Stelle e vuole proprio la festa in unità inaugurare un confronto, io ho proposto ieri di farlo con Carlo Calenda, che era il suo predecessore, così magari lo può aiutare. Siccome lui ha detto che Sturiva deve studiarsi prima le 23 mila pagine del dossier, non è riuscito a leggersi le 12 della relazione tecnica del decreto di dignità, vediamo quanto ci metterà a leggere le 23 mila pagine, forse poteva farlo prima di diventare vicepresidente del Consiglio. Dopodiché Di Maio va benissimo, venisse, ma si confronta. Per la prima volta nella sua vita si confronta, e si confronta su una cosa fondamentale. Ma hai detto già di sì? Non lo so, questo non credo, sono in trattativa, ma la cosa che mi interessa dire però è questa, che non si deve confrontare sui posti di lavoro che perde il decreto di dignità, sull'introduzione o meno sui vascar, o sui tante balle che ci stiamo raccontando, perché in queste ore parliamo di vitalizzi e dei risparmi di vitalizzi, abbiamo scoperto che i 40 milioni che ieri Di Maio diceva restituiriamo agli italiani rimangono a Montecitorio, quei 40 milioni l'anno rimangono per i prossimi 3 o 4 anni a Montecitorio perché stanno già che quella misura è talmente fragile che perderanno i ricorsi e quindi altro che 40 ne dovremmo pagare di più ai privilegiati. Si parla di migranti e ieri di porti chiusi, e ieri abbiamo scoperto, io faccio parte della Commissione dei Trasporti, Toninelli si rifiuta di venire in Parlamento dall'inizio della legislatura, gli altri ministri sono venuti in Commissione e in Parlamento, Toninelli si rifiuta di venire a rispondere, ieri però è venuto il suo sottosegretario del Movimento 5 Stelle che ci ha portato una bella letterina del MIT, il quale ci comunica che Toninelli non ha mai chiuso alcun porto italiano, quindi vi hanno raccontato una fake news, non c'è nessun provvedimento di chiusura dei porti, e che anzi sulla vicenda Aquarius, la prima che ha coinvolto l'interesse del Governo, il Ministero dei Trasporti ha chiesto formalmente al Ministero dell'Interno di Salvini di cosa fare sui porti, perché è una prassi che si chiede di fronte all'emergenza al Ministero dell'Interno di come procedere, e nessuna risposta, è scritto nero su bianco, nell'audizione del Sottosegretario di Commissione, nessuna risposta è giunta al Ministero di Salvini, da Matteo Salvini, quindi stanno facendo una propaganda, suon di hashtag, porti chiusi, prendono i nostaggi, i migranti in mezzo al mare, i porti italiani sono aperti, e da porzallo in su, continuano ad arrivare, adesso li chiederemo a Maglio Di Stefano, fortunatamente non muoiono in mare, continuano ad arrivare i migranti. a Maglio Di Stefano,